Fiocco, malato di tumore, cerca mamma e papà a distanza per poter essere curato. Fiocco è un bellissimo cagnolino di circa 10 anni, una nuvola bianca che ha bisogno di vincere, perché è gravemente malato. È chiuso da circa due anni in un canile della Basilicata, un canile dove i cani, quando si ammalano, non dalle loro trati, ma lasciati a loro stessi, al loro dolore e al loro destino. Quando Fiocco è entrato in canile, era magrissimo, con la rogna e il pene che presentava già di potenza. Le hanno curato la rogna, medicato il pene e basta. In canile le cure massime sul pene. Ma Fiocco ha un tumore al pene, deve essere operato per poter avere la speranza di sopravvivere. La volontaria che lo segue ci ha chiesto è tutto, non è possibile vederlo soffrire e non fare nulla, non è possibile che il destino di questo dolcissimo cagnolino sia già scritto da qualcuno che con indifferenza lo vede soffrire e che ha deciso che non ha diritto a nulla. Cerchiamo mamme e papà a distanza che versando pochi euro al mese ci aiutano a tirare fuori da toolbox Fiocco, farlo operare e portarlo in una pensione casellina a pagamento, dove una mamma provvisoria si prenderà cura di lui fino a quando non arriverà una famiglia che lo morrà a casa. Dobbiamo farlo in fretta perché il male che ha Fiocco non lascia molto tempo a disposizione. Non possiamo lasciare che quella gabbia di pochi metri quadri, dove è riuso, diventi la sua cara. Fiocco non ha che noi per poter sperare di essere curato. Aiutateci ad aiutarlo. Lui non ha avuto nulla della vita. Grazie di cuore a chi accoglierà il grido di dolore di aiuto il mio. I nostri contatti sono in coda al grido e nella descrizione. Partecipa al gruppo di mamma e papà a distanza con un piccolo contenuto messo. Aiutaci a far arrivare la sua storia a un uomo con le condivisioni. Tagga i tuoi amici su tuo post. Noi di EveryDoc ci occuperemo di tutto come abbiamo già fatto con centinaia di altri cani dal 2015. Recupero del cane, viaggio, sistemazione in una pensione a misura di carne, ricerca di traduzione. Clicca sul pollice in su per aiutarci a far conoscere i nostri cani. Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere le risultate nei prossimi nostri appelli. Grazie. Grazie.